shutter speed e la velocità di scatto di una macchina fotografica un 300esimo di secondo e una velocità di scatto già abbastanza veloce solitamente si tiene per avere una velocità di scatto che permette di non prendere i movimenti delle persone diciamo così solitamente si tiene un cento e venticinquesimo più vado ad abbassare questo numero più il tempo di scatto è lungo quindi più luce entra e fenambero invece è il diaframma l'apertura del diaframma va da 1 che è la dimensione più grande cioè la quantità massima di luce che può entrare a numeri come 22 23 25 con i numeri alti cioè 25 il diaframma è molto chiuso entra poco a luce con numeri bassissimi invece con numeri bassi cioè vicino all'uno il diaframma è molto aperto quindi entra molta luce e infine abbiamo la iso diciamo così la sensibilità digitale e qui i numeri vanno normalmente da 0 a 3200 più aumentiamo questo numero la iso più il rendering diverrà luminoso ci sono dei pro e contro proprio utilizzando la iso perché è vero che più aumento la iso più il sensore diventa sensibile quindi basta poco la luce per vedere un rendering abbastanza illuminato però avrò anche una grana maggiore una sporcizia maggiore quindi la iso bisogna sempre cercare di tenerla più bassa possibile e magari giostrarsi sugli altri valori